La mia azienda è nata nel 2002, siamo viticoltori per cui la nostra attività è quella di produrre delle uve di cesanese dai nostri vigneti e di produrre i nostri vini da queste uve. Questa è un'azienda che è stata fondata da diversi soci, io e Flavio che siamo appunto i figli di questi soci, fondatori, storici, ci occupiamo insieme della parte agronomica dell'azienda. Abbiamo iniziato praticamente con questa attività nel Lazio, in particolare qui nella provincia di Frosinone e al Piglio, per cui un po' per amore proprio del cesanese visto le nostre radici, un po' per l'ambizione di produrre un vino da diffondere, da far conoscere, da promuovere anche al di fuori della sua area di origine. L'innovazione per questa azienda è sempre stata importantissima, il contributo del programma di sviluppo rurale della Regione Lazio è stato molto importante perché ci ha permesso proprio di inserire in cantina delle tecniche enologiche molto avanzate. Grazie alla Regione Lazio e ai fondi europei siamo riusciti ad accedere a dei sistemi innovativi anche piuttosto costosi. La cantina l'avremmo comunque costruita, però è chiaro che abbiamo approfittato della possibilità di usufruire del contributo del programma di sviluppo rurale. Abbiamo un po' accelerato i tempi. Per noi il cesanese è fondamentale ed è il vitigno sul quale noi continueremo a lavorare a sperimentare. Speriamo bene!